bene abbiamo il piacere di essere oggi con il senatore guido liris membro della commissione bilancio medico igienista una persona quindi con una visione molto peculiare della situazione anche della della salute della sanità italiana senatore liris lei è molto impegnato anche in senato a portare avanti una visione evolutiva rispetto al tessuto sanitario italiano quali sono oggi le priorità e gli interventi che lei reputa in posto qui reputa importanti attivarsi e sviluppare una nuova prospettiva beh abbiamo a che fare con un'epifania importante che è quella dell'inverno demografico con un invecchiamento della popolazione l'invecchiamento della popolazione in questo momento penso che sia anche a livello sociale non soltanto a livello sanitario uno degli ambiti su cui questo governo deve e sta applicandosi proprio perché un un invecchiamento progressivo della popolazione senza rinnovo del soprattutto per le generazioni più giovani porta non soltanto una società diversa da gestire ma anche in termini sanitari un ambito patologico diverso da attenzionare pertanto patologie cronico degenerative e poi un'assistenza sanitaria che non può essere più soltanto ospedaliera e questo si dice da decenni ma oggi il tema rileva in maniera ancora più forte perché avere e praticare un'assistenza sanitaria più vicina possibile al paziente può significare non soltanto migliorare la qualità di vita dei pazienti stessi ma anche un risparmio non indifferente per le casse dello Stato e ripeto questo tipo di trend va in aumento non va certo in diminuzione quindi con un aumento della qualità scientifica quindi la tecnologia e i progressi della scienza che aumentano l'età media della popolazione il sistema sanitario e il socio assistenziale non possono non adeguarsi a questo cambiamento. Ecco peraltro giustamente come lei anche ci tratteggiava la recente legge delega sugli anziani proprio va anche nella logica di domiciliare le cure sia in una prospettiva di sostenibilità ma anche dal punto di vista di dignità personale per non sradicare anche una persona dal proprio contesto e dalla propria vita quindi perdendo anche identità ma senatore tra le emergenze che dobbiamo affrontare sicuramente ce ne sono molte portate anche dalla situazione pandemica che fortunatamente abbiamo superato che tra le altre cose ha rallentato drammaticamente gli screening e quindi anche sulla fascia di popolazione di cui poc'anzi parlavamo ha peggiorato di molto lo stato di malattia. Che cosa ne pensa? Su quali punti è importante intervenire? Sì il covid di fatto ha evidenziato degli aspetti che conoscevamo in parte o non conoscevamo innanzitutto ha evidenziato acuito se ce ne fosse stato bisogno le differenze di erogazione del sistema sanitario nelle varie aree geografiche del paese evidenziando anche degli aspetti che però sono una novità per il nostro know how e cioè il fatto per esempio che alcune delle regioni non faccio nomi per equilibri territoriali più blasonate e magari più arrembanti nell'ambito dell'assistenza in particolar modo della cura del paziente delle prestazioni d'eccellenza e bene regioni molto più avanti da questo punto di vista sono state invece deficitarie per quanto riguarda l'assistenza e anche la reazione a una zoonosi a una patologia conseguente all'infezione da covid proprio perché molto spesso l'assenza di dipartimenti di prevenzione l'assenza del territorio dei distretti di quel sistema fuori degli ospedali che magari oggi non viene visto come un investimento lo sarebbe stato se in passato si fosse attenzionato maggiormente l'ambito extra ospedaliero e magari quei dipartimenti di prevenzione avrebbero fatto la fortuna di tante zone magari molto densamente popolate e che potevano avere contezza dei percorsi sporco puliti della gestione del paziente a casa della di ospedalizzazione dell'assistenza domiciliare integrate che non vedessero coinvolgimento degli anziani troppo spesso in luoghi in contesti troppo antropizzati gestione di patologie del genere che soltanto un dipartimento importante come quello di gene in tante situazioni molto depreciato e che ha avuto purtroppo sempre una diminuzione negli anni degli investimenti ha però evidenziato nella sua criticità oggi si può investire tantissimo in questo ambito recuperando il tempo perso quindi in particolar modo per quanto riguarda le patologie oncologiche gli screening possono fare la differenza in particolar modo perché l'invecchiamento della popolazione porta un aumento delle patologie oncologiche oltre che un aumento delle patologie cronico degenerative investendo tanto sugli screening quindi sulla copertura sull'informazione sulla formazione per quanto riguarda gli screening e l'adesione anche della popolazione target agli screening stessi la diagnosi precoce dietro l'angolo può essere la soluzione sia della qualità di vita migliorata da parte dei pazienti o dei potenziali pazienti perché si interviene molto spesso quando il potenziale paziente sta bene ma in realtà la patologia è latente sta per manifestarsi quindi intervenire quando il paziente sta bene e la patologia ancora non si manifesta significa intervenire un momento in cui la patologia può essere battuta combattuta e battuta dalla scienza e in particolar modo può essere un elemento per sconfiggere definitivamente il la patologia oncologica nel paziente per poi arrivare quindi a una qualità di vita del paziente che senz'altro viene riconquistata in tempi più rapidi ma certamente risparmi per il sistema sanitario nazionale incredibile perché ricordiamo i costi incredibili che hanno i farmaci per quanto riguarda le patologie oncologiche pertanto due aspetti che sono vincenti e convincenti su cui il sistema sanitario deve lavorare lo può fare oggi siamo in condizione di poter vincere questa guerra contro le patologie oncologiche ma chiaramente la dedizione e gli investimenti devono essere massimi in questa fase pensando che non si stanno spendendo soldi inutilmente quando si investe sul territorio sulla prevenzione sui dipartimenti di prevenzione in particolar modo sugli screening e conseguentemente sulla diagnosi precoce. certo peraltro senatore lei ha proprio evidenziato un punto chiave che viene anche ribadito dall'european beating cancer plan che insiste proprio anche sull'importanza degli screening per un migliore più efficace trattamento una riduzione anche dei costi e chiaramente un impatto importantissimo sulla qualità di vita ma proprio sui malati oncologici ci sono però anche delle altre priorità e delle altre criticità un recente studio profit ha evidenziato anche la tossicità finanziaria della malattia oncologica tossicità finanziaria che riguarda non solo l'iter che un malato oncologico affronta ma anche quello che poi accade dopo oggi iniziamo a parlare di oblio qual è la sua prospettiva da questo punto di vista è un tema che va trattato e va aggredito con forza da dal sistema di leggi dal sistema delle istituzioni tutte perché abbiamo il dovere di occuparci di un tema scottante probabilmente spesso si nasconde la testa sotto la sabbia per evitare di affrontare un tema che è sotto gli occhi di tutti e cioè c'è un diritto certamente a essere curati ad avere anche delle agevolazioni ad avere anche un trattamento speciale nel momento in cui si è pazienti e si è quindi speciali per definizione in particolar modo i pazienti oncologici hanno il diritto di avere delle prestazioni delle attenzioni da parte dello stato in tutta la sua filiera istituzionale degna di questa condizione difficile che non riguarda poi soltanto il paziente ma riguarda il contesto del paziente non solo familiare ma anche familiare allargato in cui il paziente si muove il diritto all'oblio è un diritto che va conquistato oggi non c'è chi guarisce dalla patologia oncologica il diritto ad essere dimenticato da quelle liste di proscrizione quasi perché questo diventano una volta che il paziente è guarito perché molto spesso diventano motivo di non assunzione di trattamenti degni di pregiudizio da parte delle istituzioni quando bisogna andare ad accettare un prestito ad un concorso per un posto di lavoro a situazioni legate al mondo della formazione a tipi di investimenti sociali economico finanziari particolari ci sono delle gestioni e dei pregiudizi che evidentemente oggi non rendono giustizia pensiamo a chi ha avuto anche patologie nell'età pediatrica quindi superate superatissime dal tempo e dalla reazione del corpo umano a una patologia ormai dimenticata invece molto spesso questo tipo di quasi lettera scarlatta rimane impressa nei codici quasi identitari del paziente che non è più paziente in quel caso perché è guarito ma lo rimane di fatto nelle schede del sistema sanitario questo molto spesso porta a un trasferimento di dati a tutto tondo della carta di identità di un paziente e questo non può essere motivo di pregiudizio sociale soprattutto ripeto dopo che la patologia è soltanto un lontano ricordo. Senatore ci parlava anche di un definanziamento della sanità che ha avuto degli impatti davvero critici sull'assetto attuale in questo indubbiamente si evidenzia anche una criticità che riguarda il personale sanitario e proprio su questo aspetto lei ha svolto un'intensa attività legislativa anche con degli emendamenti approvati quali a suo avviso oggi sono gli interventi da effettuare in maniera magari anche urgente e anche da un punto di vista più programmatico e strutturale? La crisi del personale sanitario è una crisi fortissima probabilmente si è sbagliato in passato nella mancata programmazione non riguarda soltanto i medici, riguarda medici, infermieri, OSS, la parte riabilitativa del sistema quindi fisioterapisti ed altro ma anche gli assistenti sociali. Un tipo di filiera che ripeto anche in funzione dell'invecchiamento dell'operazione diventa sempre più importante. Pensiamo da questo punto di vista alla mancanza di personale non soltanto nell'ambito sanitario ma ripeto per quanto riguarda quello ospedaliero ma anche per quello extra ospedaliero. Penso anche ai medici, medicina generale e ai mediari di libera scelta. Quindi una crisi a tutto tondo che merita una programmazione. Si sta reagendo in maniera forte e con un connubio, una sinergia che vede il Ministero della Salute con il Ministero dell'Università per far accedere un numero maggiore di persone al primo anno del corso di medicina come di altri corsi sanitari proprio per evitare che tra 10-15 anni il problema diventi peggiore di quello che è oggi. Ma in questo momento vanno messe come delle pezze a colori direbbe qualcuno in maniera in gergo non tanto corretta e non molto ortodosso. Quando abbiamo pensato di dare la possibilità ai medici oltre 70 anni di poter lavorare o a specializzanti non ancora formati di poter entrare in mondo del lavoro non lo facciamo con cuor leggero. Sappiamo bene che non è questa la risposta. La risposta è nell'investire, nell'assumere, nel formare nuova classe medico e paramedica sanitaria per andare chiaramente a completare le piante organiche e andare certamente a coprire i vulnus. Ma in questo momento c'è bisogno quindi di sposare delle misure emergenziali che abbiamo proposto e ottenuto nel Mille Prologhe come in altri strumenti di legge. Nel frattempo bisogna operare per aumentare la possibilità che di qui a qualche anno medici, infermieri, OS, sistema di riabilitazione possano entrare nel mondo sanitario quindi come assunzione, come dedizione, come coinvolgimento a tutto tondo. Pertanto questo passa certamente per una formazione andando comunque a tutelare la qualità della formazione perché poi non è semplicemente una natura quantitativa il bisogno che abbiamo ma è anche una natura qualitativa. Pertanto chi dice facciamo entrare senza rispettare il numero chiuso deve stare attento perché molto spesso poi ci troveremmo ad avere una classe sanitaria che poi non è in grado di affrontare, di gestire e di guarire le patologie che il nuovo mondo che da qui a 10-15 anni dovremo affrontare in termini sanitari porrà sottoporre alla nostra attenzione. Pertanto conservare la qualità della formazione ma nel frattempo dare una maggiore possibilità di entrare nel mercato del lavoro sanitario ai tanti giovani che ne hanno la passione. Questo passa certamente per uno studio chiaramente dei bisogni, quindi per una programmazione e per un'offerta formativa, qualitativa ma che tenga conto dei numeri necessari. Senatore Liris, sappiamo anche che lei è particolarmente attivo nel corso dei suoi impegni parlamentari a promuovere una visione diversa della salute, anche a coagulare anche con altri colleghi una serie di attività che aiutino ad evolvere quelle che sono delle criticità che oggi stiamo affrontando. Su quale altro tema si concentrerà in futuro anche in collaborazione con altri colleghi? Io credo sia necessario occuparsi dell'emergenza sanitaria nelle aree interne. Io credo che questo sia un tema, forse il tema dei temi, per tanti motivi. Perché proprio in quella carenza di personale che dicevamo poco fa sono proprio le aree interne a pagarne lo scotto maggiore, proprio perché nella possibilità di poter scegliere il professionista si rega molto più volentieri a lavorare in luoghi che qualitativamente offrono dei servizi maggiori. Quindi a danno delle aree interne molto spesso, le aree marginali, le aree montane. Quindi studiare un sistema che non vada a danneggiare ulteriormente la bassa densità demografica di alcuni territori con una minore ricchezza dal punto di vista economico, magari una maggiore ricchezza dal punto di vista naturalistico di genuinità dei territori ma che vedono molto spesso una differenza di infrastrutture. Quindi con PNRR e con fondi FSC si stanno provando a eliminare i gap infrastrutturali presenti sul nostro territorio. Con un'azione politica e amministrativa anche nell'ambito sanitario che vada a prediligere il territorio rispetto all'ospedale, le case comunità per esempio sono una soluzione se li riempiamo di contenuti, altrimenti sono un ennesimo problema. Andiamo a costruire sistemi sanitari territoriali che possano arrivare il più vicino possibile al cittadino soprattutto quando abita il cittadino appunto in aree lontane dai centri urbani, dalle città medie o medio-grandi, proprio perché è lì che molto spesso risiede il disagio sociale e l'emergenza sanitaria. I medici, medicina generale e pediari libera scelta devono essere anche obbligati a coprire queste aree in qualche modo, anche con incentivi. Noi abbiamo dei vullossi importanti, i medici generale e pediari libera scelta nelle aree interne che porrebbero meritare gli incentivi. I medici di pronto soccorso e in alcune discipline, per esempio quella di geriatria e di lungo degenza dove si dovrebbe fare un investimento maggiore, che porrebbero essere rattati in maniera differente anche a livello economico. Ci sono degli strumenti, inutile essere romantici da questo punto di vista, molto spesso gli strumenti girano attorno e ruotano attorno a una maggiore dotazione economico-finanziaria dello strumento stesso. Pertanto con un'attenzione particolare nei confronti di chi si dedica a queste criticità noi potremmo sicuramente almeno provare a lenire le difficoltà, a lenire le problematiche. Nel frattempo certamente gli strumenti che sono appunto importanti, forti come quello del PNRR che dicevamo poco fa, che investe tantissimo, immaginiamo proprio la sfida epocale del digitale con il fascicolo sanitario, la ricetta sanitaria che ormai è una situazione acquisita, ma la telemedicina, quindi con una copertura del territorio nazionale anche nelle zone più improbabili, con una banda ultralarga e comunque con collegamenti che possano garantire il flusso dei dati. La telemedicina e la teleassistenza possono essere una soluzione in particolar modo per quel tipo di aree che consentono a professionisti anche di grande qualità di poter dire la propria, di poter assistere, di poter coadiuvare colleghi presenti sul territorio, molto spesso anche i più giovani. Un sistema sanitario che però deve essere ripensato da questo punto di vista anche in funzione, ripeto, di questa bassa densità abitativa delle aree interne con le proprie caratteristiche, con le proprie peculiarità. Andando, ripeto, a pensare che una sanità, almeno per quanto riguarda i vari codici bianchi, verdi, fino quasi al giallo, può essere affrontata fuori dall'ospedale con sistemi che all'interno di case della salute, case di comunità, i vecchi distretti o i nuclei di cure primarie rielaborati magari, possano vedere medici, possano vedere assistenza infermieristica, possono vedere visite specialistiche presenti all'interno di quel distretto o case di comunità che diventeranno, ma certamente situazioni che possono prendere dei piccoli ospedali, non costosi, ma che danno quei servizi essenziali che la popolazione delle aree interne in questo momento merita. Sì, peraltro, anche nella missione 5 del PNRR, proprio sulla coesione territoriale, vi sono alcune risorse, proprio nella direzione che ci spiega poco anzi il senatore Liris, anche perché i dati che il tavolo della Presidenza e il Consiglio dei Ministri aveva presentato qualche anno fa sulle aree interne, erano veramente critici e drammatici, perché si parlava di un accesso alle prestazioni specialistiche praticamente dimezzato, tasso di ospedalizzazione in appropriatezza raddoppiato e questo è una criticità anche specialmente italiana, quindi ringraziamo anche il senatore Liris per questo suo importante impegno, perché l'Italia è poi la nazione europea con la maggiore estensione delle aree interne e su cui tra l'altro hanno un valore sociale e storico importante. Senatore Liris, è stato un piacere poter ascoltare le sue parole, la ringraziamo per l'impegno che profonde quotidianamente per il Paese e soprattutto per la salute degli italiani. Grazie a voi, grazie a voi e grazie per anche il messaggio che potete veicolare di fiducia, di speranza, ma anche di informazioni rispetto a tematiche che sono scottanti, difficili da affrontare ma che sono un po' la sfida del futuro.